ah scopo oi ma che ammazza che stai stando sto scemo è caffone, sciarragana e vince sempre io non so capace di mettere una scopa ma stai tanto con questa mezzalega oh Piri che non sai parlare oh 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 come si infame passiamo a prendersi cazzo tu vuoi dire che ho qualche difetto io tengo difetto asseriggio parlare ora hai ho difetto viene pure tu a che difetto hai io? sarei tu vai in il tuo bagno come si pulisce? come si puliscono la mano testa? aonk!! la carta igienica